Ciao a tutti ragazzi e bentornati su DarkFlyChannel che nel nuovo video sul canale Oggi sono qui in compagnia di mio fratello là che mi sta saltando come un pazzo E ci troviamo sul server i pixel in pina descrizione per portarvi un nuovo episodio della serie Crazy Walls Ovvero muo di matti Allora ragazzi per chi non conoscesse questo minigame in cosa consiste? Dobbiamo andare sottoterra a scavare le risorse tipo l'oro, lo smeraldo e la redstone E con queste risorse dobbiamo andare a tridare col villager Che ci permetterà per esempio di fare armature di diamante e robe varie Una volta l'acqua perché mi frighi le mie cose? Una volta raccolte tutte queste cose bisogna cercare di craftarsi appunto tutte le cose buone Perché poi dopo quattro minuti si rompono i muri Eh sì l'acqua lo so che l'ho trovato E invece dopo sei minuti si rompono i muri rossi e ci sarà la sfida finale Comunque la redstone, no sì la redstone, i gold sono le cose principali Ok perché ti puoi craftare tutte le cose figlie tipo l'armatura di diamante Invece le stringhe servono principalmente per scambiare per farti l'arco Perché il craft è bloccato quindi non ti puoi craftare le cose così a caso Comunque cesta nascosta, quattro frecce, nulla di che Tu hai trovato qualcosa l'acqua, una cesta? No Comunque l'acqua, non so se in questa mappa c'è la possibilità di scappare da sotto Cioè che ci sono i dungeon collegati Però li potremmo sfruttare per nasconderci, non pusharli contro Oh buh, qualcosa del genere Comunque non sto trovando oro Non è che me lo stia fregando tutto tu? Io ho 12 Ah 12, bene, io ne ho 2, anzi con questo 3 Vabbè, mi farei qualcosa tu Ok, perfetto, non si vede un ciuffolo E per me è che lo prendo, solo che non me lo raccoglie e mi rimane a terra Comunque ancora abbiamo un minuto anzi Per raccogliere tutto e poi due minuti saliamo sopra per captarci le cose Ma che tu ero a terra? Eh lo so l'acqua, infatti poi dove ci volevo ripassare per raccoglierlo Ok, altro lucky block mi ha trovato i 6 Quanti? 6 lucky block ho trovato, infatti adesso li apro Zack, 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 zack All'acqua, tu hai preso tutto l'orio, ho trovato i lucky block E poi non è che sono così importanti L'acqua, mi frega tu, anche l'orio che c'era là dentro Eh, quanto lo vuoi? Tutta persona E non lo so, quello che serve per farsi almeno la chase plate Quindi No, 10 Sì, vabbè Me ne servono 6 Ce le hai? Grazie Io ho 61 di red, sono 13 di emeraldi Eh, io ho 11 di emeraldi Chiamiamoli così Vabbè, facciamoci la spada di diamante Questa qua chiede se incianto E basta Ah, vero, l'arco La cosa più importante Almeno per me Frecce e frecce Allora Andiamo qui Inciantiamoci la chase plate Che c'è? Ho ottenuto protezione ai proiettili Un breaking Gli incianto più utili di tutti sto trovando Tre volte un breaking E non posso neanche ingentarmi la spada L'accai, bottiglie dell'esperienza No Eh, sì che ce le hai Ok, mi servono almeno Perfetto, basta, basta Gli altri temi, te li tu Un breaking ancora Quali sei, otto cose? Shop Che cosa? Otto cosa? Quello, non mi sono scioppato la spada Eh, che ti serve per scioparla? Sette emeraldi Almeno ragazzi Sto continuando questa esperienza Per farci almeno la spada In modo decente Livello 5 Sharpness 1 Ah, l'accai una volta Ha trovato sharpness 2 Che culo Non la troverò mai Comunque Hai un cuore, no? Hai tre emeraldi? Eh, quattro Tiene Vedi se trovi qualche incianto decente Comunque fa anche le pozioni Sono essenziali Grazie Facciamo sponare il cane Perché tanto l'accai non mi potrebbe attaccare Tecnicamente Ma, ah, ma il cane È mio? Sì, ok C'è il collare L'accai abbiamo ancora Un minuto e 14 Mettiamoci l'acqua qua sotto In caso ci bruciano Cavolo Non posso farmi la gheffle Non ho oro Tu l'accai ce l'hai? Eh? Ce l'hai fatta Eh, me lo passo Ah, no Ah, vabbè Allora Vediamo come sono messi i nostri vicini Per decidere di attaccare Questi di qua Mi sembrano messi Come noi Cioè non è che c'è gente messa Quante gheffle hai? Zero E non ho neanche una pozione Aspè Eh, andiamo da sto lato Lack Stieni prima Quella mi sembrano troppo aggressive Pozioni Della Splash Splash Eh, vabbè Mettiamoci tutto qua sotto Ok, questa mi cura istantaneamente Queste sono velocità Vabbè, le frecce non mi servono Lack viene di qua Vanno ancora 24 secondi Andiamo sotto? Eh, ma dopo che andiamo sotto Tu non lo so Lack è tecnico sermoso Potremmo anche camperarci All'acqua sopra Se hai un arco Tanto vince la squadra Del camper di più Cioè potremmo provare Dato che pusciamo sempre Almeno camperiamo Ce la Ma tu ce l'hai l'arco? No Campero le scale Ah bene Ok L'importante è che non ti fai buscare giù Ok, perfetto Eh, affacciamoci da sto lato Tu seguimi sempre C'è uno, c'è uno, c'è uno Dove? Ah che l'ho visto Copre No, 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 no Sono due Ma dai, non è possibile Che hanno avuto la nostra stessa idea In chi fregge l'arco? Meglio cuore L'ho ucciso con mezzo Dai, cover Ti serve pozione? Ok no, ti stai curando tu La testa l'hai presa? Un breaking uno Protezione uno Ho un arco Un power uno E tre stack di fregge Tieni l'arco Mettiti l'arco C'è splate veloce Dietro di te di diamante Ok, l'hac ha guadagnato l'arco C'è questi qua Non hanno avuto la nostra stessa idea Io con mezzo cuore Ah, la testa è sotto Eccolo da qui sotto le scale Perfetto Allora, del nostro settore Ancora ne sono rimasti Bu, non lo so Non li vedo Ok, sotto di me ne ce n'è uno Sì, ho l'arco Facciamolo Oh, l'ho preso Oh, l'ho preso Oh, l'ho preso Oh, l'hac Fammi lo quelli di me Vai, vai, vai Nice Ok, prendigli la testa Sono finiti tutti l'hac Serio? Sì Cerchiamo di usare i lucky block Per prendere qualcosa di figo Allora, mi hanno detto di usare Il lucky block della spada E il lucky block questo qua dell'armatura Perfetto L'hac veloce Sack e zack Abbiamo 40 Vabbè, ancora c'è tempo Armatura, protezione, te Fire protection, te Fai l'aspectate Fai l'aspectate Fai l'aspectate Sharpness 4 ho trovato, l'hac Serio? Sì, è un'altra cosa Che prendo No, aspetta Tu ho voluto provare Una cosa che non servirà mai a nulla Cosa? Oh, l'ho provato Misc Power 2, punch 2 ho trovato Io ho sharpness 1 Fai l'aspect 1 Buono Vabbè, ha funzionato questa cosa di Ecco con power 3 Io power 2 e punch 2 Beh, queste cose buttiamole tutte ragazze a terra I silver fish servono per buttare quando fanno le torri A me non ce l'hanno consigliato così Ok, l'hac mettiamoci in un angolo un attimo Non dovrebbero essere tutti in team perché ho visto gente che era da solo Poi le tieni che ti ho la velocità Spara Ok Ed è imparato a usare le porzioni Poi le tieni uno solo Però sì Ho pushato È troppo potente il punch 2 C'è il punch 2 È il power 2 Che cavolo è? Ucciso il tuo cane con una freccia soltanto L'ho massacrato questo Solo che non prende danno Non prende danno Vabbè, non prendeva danno questo qua Anche io l'ho preso È morto È indietro è già? Qua c'è il super lucky block Vediamo cosa ci droppa Luck? Vieni da me Dietro Dai dammi qualcosa di buono Ragni Ma chi What the fuck luck? Vieni di qua non perdere Hai trovato fire aspect? Luck? Sì Ah, non lo sapevo Comunque sono rimasti in tre Oh, c'è una testa C'è una testa Eh, vale a tre dare per qualcosa Tanto siamo rimasti in tre Quegli altri si staranno equipaggiando Ah, in 30 secondi c'è il deathmatch Non ci è mai capitato Per cosa? Perché ne so Armatura Vedi se trovi i pantaloni Con protezione Mille Un attimo Risperiamoci la velocità Ok Non ce l'abbiamo per altri 50 secondi Scarpette Che cosa hanno? Fire protection 3 Protection 3 Vabbè, buono Ah, è buono comunque Deathmatch in 10 secondi Non ci è mai capitato sta cosa Ci riferanno in qualche posto? Penso di sì Credo La velocità Comunque quello che trovo Per aspect è qui Deathmatch a start Ah, ok I board adesso si chiudono Luck dove sei? Non lo so Perché te ne sei andato? Sono dietro di te Andiamoli a prendere Dovrebbe essere qua a sinistra Credo ora Spero che non siano tre in team Perché mi sembra strano che Che me lo fa questo? Luck? Vabbè Li mi assarghiamo praticamente Io l'acco mezzo cuore Indieti a reggio Ti prego Oddio Con mezzo cuore Non me ne ero accorto Quelli tirano le pozioni a terra Non capisco Luca saliamo su una cosa a camperare Un attimo Quella là sotto Hai vista dove? Anche perché siamo in tre Ma io ne vedo solo due Non capisco per quale strano motivo Sali 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 No non sono riuscito a salire C'è qualcuno sotto? Ok ritorniamo ancora su Luck No 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 Cavolo Sono senza piedi Ok Qua c'è un buco Come si Se sono rompere i blocchi? Sì Sali Ok Allora 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 Io ho l'arco power 3 E tu c'è l'arco P Io ho l'arco power 2 È punch 2 Ovvero che spingo Dovrebbe essere Facciamo il giro di qua Io vedo i nomi dei shoppini E mi sembra che sono persone Invece sono shop Siccome ci vengano a prendere Sono al centro adesso questi due Sono solo due eh Ma io vedo in tab Ok adesso sono in due Allora andiamo Aspetta Pozione della velocità Bustata Andiamo Pa pa Ho perso un cuore La stanno trezzando Eh sono full diamante questi Con le d'archi Con l'arco Eh con l'arco un corno Mi hanno bloccato Eh mi hanno shuttato Ditti Ditti Questa è il mio momento Ma questi tolgono Dici cuori con un colpo Vabbè guarda come l'ho messo L'ho messo benissimo Cavolo Benissimo Well played Well played Quindi ragazzuoli Questo video Finisce qui Ehm Definita un pochino male Perché Buh erano full Qualsiasi cosa Avevano le pozioni infinite E niente Quindi da l'ac Che trova sempre Queste figlie all'interno Delle chest Da dark è tutto E ci becchiamo domani Con dei nuovi video Ciao ciao